Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo Bitikus, un nuovo video Naturalmente come sempre ricordo di susciutare i like, di iscrivervi i canali, iscrivervi anche i canali di canale Oggi andremo a parlare di PayPoo, questa nuova pre-sale E quello che ci stiamo domandando tutti, sarà questa la nuova PayPay? Andrò a vedere il tutto all'interno di questo video E per cui iniziamo Subito Eccoci qui ragazzi, per cui andiamo a vedere PayPoo Ok, questo nuovo meme token che si ispira a PayPay Ovviamente è una pre-sale Quindi rischio molto, ma molto alto Lo possiamo definire rischio sistemico altissimo Però ovviamente potrebbe dare grossi rendimenti Quindi al momento il prezzo è di 8 millesimi e 4 Ovviamente pre-sale che sta andando a crescere Ok, nel corso del tempo E sono stati raccolti finora 4,2 milioni di dollari Quindi insomma una cifra considerevole Vi ricordo che è possibile acquistarlo o attraverso rete Ethereum o attraverso USDT oppure attraverso carta Io vi lascio sotto la link in descrizione così puoi andarti a vedere letteralmente PayPoo E ora andiamo a parlare per l'appunto di PayPoo Perché praticamente che cosa si propone questa coin? Allora di andare a ideare quella che sarà la nuova chain di Pepe Ok, quindi passaggio dal rete Ethereum, quindi Proof of Work Alla nuova rete di Pepe che sarà per l'appunto chiamata PePoo Ok, questo potrebbe essere letteralmente una pietra miliare Ovviamente comporterà maggiori scambi, ha commissioni più basse E andrà a risolvere quello che è uno dei problemi principali Cioè del trilemma, ok? In sostanza E questa potrebbe essere un'idea letteralmente pazzesca Perché vi ricordo che quando si raggiungono grandi risultati Si parte sempre un'idea Successivamente la si mette in atto E poi arriva il risultato Quindi insomma questo potrebbe essere veramente qualcosa di pazzesco L'intera mondo crypto soprattutto con Pepe Ma in futuro che andrà a aumentare il suo prezzo Di conseguenza potremmo avere un grosso Skyrockets da parte di Pepe Ovviamente come sempre ricordo che non sono neanche così viazze Neanche così trading Però insomma può essere una valida opportunità Dopodiché andiamo a andare anche a Tokenomics Perché un 20% dei token sarà ripartito Ok, per la prevendita che stiamo vivendo in questa fase di mercato 30% per lo staking 20% per il marketing 10% per la liquidity Quindi all'interno della liquidity pool Ovviamente quindi ci sarà un listing sui DEX 10% per il finanziamento del progetto Infine un altro 10% per lo sviluppo della rete layer 2 di Pepe Quindi insomma una tokenomics molto molto interessante Ok, dal mio punto di vista E vorrei mostrarvi anche quella che è la loro roadmap Perché andrà a costituirsi di tre fasi La prima fase ovviamente riguarderà la costituzione Ok, di questa chain Per l'appunto chiamata Pepe Seconda fase Fase della coin eruption Che cosa vuol fare all'interno di questa fase La ricompensa attraverso lo staking Andrò a vedere anche di che cosa si occupa lo staking E quanto rendimento effettivamente dà E infine terza fase Per l'appunto conclusione dell'intera blockchain di Pepe E in questo caso per l'appunto definita Pepe Dopodiché qui abbiamo anche quelle che sono le principali domande frequenti Quindi se hai delle domande Puoi letteralmente andare a fare ulteriori domande qui sotto Qui trovate anche quelle che sono Per l'appunto le principali domande fatte in passato E voglio andare a vedere con voi Quella che è un po' la situazione staking Situazione staking che è la seguente Cioè si va a dare un rendimento che di API Del 443% Che quindi insomma non è assolutamente poco Ok Sarà così ripartita Cioè lo si può fare anche giornaliero Lo staking Cioè questa è la percentuale annua Ovviamente se voi fate solamente un giorno di staking Va diviso per 365 Quindi circa un 1% al giorno Che ragazzi è tanto Però vi ricordo come fino a qualche settimana fa Si offriamo addirittura API del 2000% Quindi il fatto che lo stanno andando ad abbassare Secondo me è molto interessante Ok come cosa Questi sono i pepu finora messi in staking Sono 361 milioni E vedete che insomma l'offerta totale andrà a crescere Fino a maggio 2026 Con 8 miliardi al momento Siamo sotto i 6 miliardi di intera offerta in circolazione Dopodichè ve lo sapete anche come il prezzo Fino a qualche giorno fa Era di 8 millesimi e 3 E oggi invece il prezzo è di Eccolo qua 8 milesimi e 4 Quindi comunque la presale Sta continuando a crescere C'era un ritmo lento Però ragazzi vi ricordo che sono stati raccolti 4,2 milioni di dollari Quindi veramente tanti soldi Arrivati finora su pepu E vedremo poi come andranno letteralmente a costituire Ok questa blockchain Se la costituiranno Perché sempre qui ci può essere un po' di dilemma Però ovviamente se andranno a costituirla Scusate veramente potrebbe essere un qualcosa di pazzesco Dopodichè andiamo a vedere anche quello che loro twitter Perché al momento conta 7.690 follower Comunque sono presenti ok letteralmente su twitter Eccolo qua il buon pepu Ci sono comunque interazioni Guardate qui 86 like Nemmeno un'ora fa 207 like Questo è un post di qualche giorno fa Quindi insomma La community sembra presente Ok su questa coin Poi vedremo se finalmente sarà così Però insomma Sembrano essere letteralmente presenti In questa fase di mercato Ma dicevo ora un po' di tempo Che prima di sviluppare tutto Però dal mio punto di vista Potrebbe essere veramente un progetto molto molto interessante Ti ricordo anche di seguirli su Telegram Entra dentro il gruppo Telegram Perché è importante anche capire le interazioni Che ci sono all'interno di una community Ma soprattutto volevo ricordarvi anche quello che Recentemente è venuto su alcune coin Che si sono ispirate a Pepe Come ad esempio anche Peipei Guardate qui Peipei Che cosa ha combinato dall'inizio Ora non è che vi sto dicendo Che per forza pepu Deba fare gli stessi identici numeri Però insomma qui Si è fatto un 100x Che letteralmente pepu Poi ha scaricato Guardate qui un 83% E poi è ripartito Ha fatto nuovi massimi Ora su Peipei Potrebbe avvenire qualcosa di simile Cioè Maris Che Rockets iniziale Scarico in gente Per poi andare su Ok questa potrebbe essere la mia idea Perché ovviamente all'inizio c'è hype Ci sono tanti acquisti E dopo successivamente arriva il scarico Quindi insomma valutate voi ragazzi Quindi vi ricordo ancora una volta Peipei Ti lascio sotto il link in descrizione E vai a vederlo Fai le tue considerazioni Però potrebbe essere letteralmente Una coin Barra blockchain Che potrebbe letteralmente svoltare Quello che è il mondo Dei meme E per questo se vi è piaciuto questo video Ti ricordo di Di suscritto e di like Di iscriviti al canale E noi ci vediamo Presto Hasta la vista Hombre